Rii 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 R baz a Ok, va bene, ancora un colpo Ancora un colpo, dov'è? Bam Finito, stronzo Bam E ora che non puoi più volare, che fai? Ancora? Cioè, devo batterlo la terza volta? Ma cos'è? Cos'è il mortale questo spazzo? Oddio, no, mi ha preso, ma vaffanculo Non so cosa stia facendo, ma non mi interessa Ah, dolore, aia Aia, aia Basta, cos'è? Muori Oh, grazie Deve recuperare il sangue, il sangue Questo mi serve il sangue Arriva Ah Quindi di pussana Boom Uso quest'arma perché è molto più efficace Boom Eccolo È molto impuro È molto impuro È molto impuro Vabbè, non lo vedo Inoltre è molto più semplice colpirlo con il raggio laser Forza Forza Maledizione, sono scarico Ok Oh, eccolo Oh Dove sei, dove sei, dove sei No Ah Troppo tardi Aia Muori, muori, muori Ok Devo rigenerarmi Aspetta un secondo Ok, perfetto Cazzo lì Attaccami Guarda come si scappa in ritirata Guardatelo Boom Mamma mia, ti amo Ti apro in due Mister Twilight Del mio cazzo Vabbè, non ho fatto che mi sto divertendo Olè Vabbè, ti ho preso Ragazzi Devo uccidere per forza questi stronzi Perché anche se gli do il colpo di grazia Senza ho il sangue Non posso usare la mossa finale Quindi non potrei ucciderla Muori Aia Stronzo Ultima rigenerazione La sicurezza Dov'è? Oddio Oh, ma dai Dai giù E adesso ti ho Un pugno A se Goduria immensa Ragazzi Goduria immensa In soli quattro minuti di video E adesso Stronzo Stronzo Questo Lascia orvi a me Quale? Spara Ma si sta auto mangiando Killer is dead Almeno per 15 giorni Bellissima questa battuta Comunque c'è capolavoro Capolavoro Non c'è un cazzo da fare Un capolavoro sto gioco Unisce tutto C'è tutto dentro Salve Lei è qui per Un capolavoro 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 Dove è capitale pure lei? Mundo, ok che ti piacciono le donne, ma così è troppo. Elegante, guarda che elegante. La mia scuola è troppo forte. Ti ho spazzato, no? La mia scuola è troppo forte. Quindi... Scusate, potrebbe migliorare il mio amico? Questo è... il vostro consiglio. Questa arriva adesso così a merda, vabbè Io ho già finito tutto, ho fatto tutto, ho detto tutto e lei arriva, vabbè Un po' più di puntualità la prossima volta, puntualità Io voglio questo cazzo di accendisigari Ma no, cazzo Eh sì Minchia, è accetto No, non cazzo No, non cazzo No, non si spreca così il vino No, non si spreca così dal buonissimo alcol Al massimo ci potevamo condire l'insalata Oh, però ne abbiamo guadagnati di soldi 1.083.750 Mitico Sono veramente il professionista di questi lavori Vabbè raga, dato che ho finito questo boss e questa è una missione aggiuntiva speciale È tutto e siamo già a 11 minuti, direi di farci una missione secondaria magari L'intenditore, ma cos'è? Il brivido del vampiro Il vampiro seducente è già concluso C'è un insetto, vabbè Grande artista Io sono curioso di provare questa ragazzi, proviamo Un'infermiera fortunata Obiettivo Scarlet Luogo, arena di combattimento Alias L'aliena sexy Misura 86, 61, 89 Altezza 1,70 cm Età 20 anni, forse Nazionalità USA, forse Non siamo sicuri, va bene Sinceramente non ho capito bene se questo è un appuntamento galante O se è un'arena di combattimento Vabbò Vediamo un po' cos'è È curiosa la visione Sfida obiettivo, parte 1 Sfida tecnica Eh Beh, facciamo questo, non lo so Sfida obiettivo, parte 1 Richiesta di Scarlet Dimostra che puoi uccidere tutti i nemici entro il tempo limite Va bene Aia Bellissimo Non ho sangue Vassa Tutto qui Coraggio aumentato di 100 Il tuo coraggio totale è 100 Sfida completata Va bene così Bello Buono Sì, devo farle più spesso queste sfide Ma vabbè, allora Ne abbiamo fatta una Oh, facciamone un'altra Ok, questa tipa è ipnotica Allora, sfida obiettivo Sfida tecnica No, dai Facciamo un'altra di queste Uccidi tutti i nemici meccanici Ma non uccidere gli animali What? Non ho capito Che cosa devo fare Ma non ho capito Sfida, quali gli animali? Aia, aia, aia Ah, quelli erano gli animali E che cazzo non avevo capito Non l'avevo capito Fighi, scusa Ci riprovo Tranquillo, ci riprovo Per Dio Non avevo capito Devo ammazzare Quelli di Dio Allora Uno E per Dio Ok, poi due Poi tre Hai, aia, però Dolore Ah, aia, aia Wow 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 Se non faccio un po' troppa gente Però faccio pure Ma si è messo l'avanti Ma che cazzo Si è messo l'avanti Ma su Vabbè, faccio il terzo tentativo E poi basta Ci devo andare un po' più convinto O meno convinto Allora E poi E poi Allora 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 Prima di tutto Devo riuscire a Accentrarlo Ok Ok Eh, ma dai Ma cos'è Mi si Fiondano davanti Ma che cazzo Vabbò Fail dopo fail Dopo fail Ok ragazzi È stato breve ma intenso Spero che questo video Vi sia piaciuto Come sempre Ricordate di lasciare like Se commenti e diventare fan Su Rock'n'Rod Le storie più che a 97 Link saranno sempre in descrizione al video Se non siete iscritti qui su YouTube Iscrivetevi Noi ci vediamo al prossimo video A presto ragazzi Ciao ciao